è arrivato il momento di parlarne fa bene questa sera sarà nec de vincenzo rispondere alle domande nec sei pronto prontissimo guarda che non sono facili no non sono facili lo so e devo ammettere che è uno dei programmi che ci fa insomma svuotare tutto quello che è tutto quello che dentro nel senso dobbiamo parlare parlare si parlarne fa bene iniziamo sei pronto cosa sei in grado di fare oggi che non sapevi fare un anno fa domanda interessante che non sapevo fare un anno fa non lo so è difficile veramente difficile sì sì in effetti è vero televisione qualcosa di nuovo chiaro che sicuramente potrebbe essere una risposta non avevamo mai fatto e lo stiamo facendo da un anno e qualcosa si potrebbe essere quella la risposta no perché non è quello che è un mondo nuovo no che non sapevamo fare che oggi siamo ai nostri primi passi ma che comunque sicuramente meglio di non averla mai fatta oggi abbiamo più esperienza proprio ora in questo momento cos'è che desideri maggiormente in questo momento cosa desidero maggiormente ma io se posso permettimi che ne so io una bella soppressata così la tagliamo no cos'è che si desidera di più non era mangiare meglio uno dei tuoi propositi per il nuovo anno dura la vita silvana perché facciamo tanti sacrifici nella vita al mangiare no e però è ragione sì credo che cos'è che no scherzi a parte cos'è che desidererei di più in questo istante probabilmente anche io una vacanza perché lavoriamo sodo no e praticamente arriveranno pure quelle certo in ordine di importanza si quale ruolo riconosceresti ai seguenti aspetti della tua vita felicità soldi amore salute salute sicuramente al primo posto soldi lo metterei subito all'ultimo perché secondo me non è la parte più importante no anche se abbiamo bisogno di soldi credo che sappiamo benissimo che senza salute senza felicità e cosa fai che non sono i soldi a farti felice ti semplificano delle situazioni ma non la vita quindi primo posto sicuramente abbiamo detto la salute ultimo felicità secondo posto e poi al terzo posto l'amore si felicità e amore vanno insieme no e secondo me soldi ancora una volta io credo che se ci guardiamo intorno c'è gente che ha soldi e c'è gente che non ha soldi però alla fin fine gente che ha soldi ci sono momenti tristi nella sua vita gente che non ha soldi ci sono momenti tristi ma siamo tutti uguali a un certo punto la vita non è basata sui soldi quindi lo metterei veramente all'ultimo posto quale parola descriverebbe meglio il modo in cui hai trascorso l'ultimo mese della tua vita l'ultimo mese della vita quindi questo gennaio un mese è incredibile io direi incredibile il mese di gennaio perché perché ma io ho sempre detto che dio dio vede provvede no e ti aiuta sempre a portare gente incredibile intorno e questo mese di gennaio è partito veramente incredibilmente ci ha portato delle persone nella nostra vita parlo del lavoro ovviamente qui in televisione tantissime bellissime persone che abbiamo incontrato nel giro di due tre settimane e questo per me è incredibile questo mese di questo anno 2019 secondo me inizia se il buongiorno si vede dal mattino credo che 19 io credo che sarà un fantastico anno bello cosa ti motiva maggiormente in questo momento della tua vita cosa mi motiva deve essere sicuramente il lavoro perché sapete il lavoro è una buona parte della nostra vita non lo sappiamo che al lavoro spendiamo tantissime ore e durante la vita è molto importante se non sei motivato al lavoro è un problema perché poi cosa fai il resto in televisione è stato un grande cambiamento no noi che veniamo da un altro media però credo che ci ha ci ha dato sicuramente delle grandi soddisfazioni nel primo anno e secondo come ho appena detto si prevede grandissime cose sono sono benedico insomma al cielo è un ringrazio dio che ti fa andare sulla strada giusta no quella che tu sai che è la tua strada e quindi mi motiva moltissimo bene in una sola frase chi sei tu chi è niente vincenzo mi piace molto questa frase perché secondo me riflette vivo e lascio vivere ecco chi sono io vivere e lasciare vivere e credo che la cosa più importante che tutti dovremmo fare che si rifà molto a non fare agli altri quello che non vuoi che sia fatto a te insomma vivi e lascia vivere bello bella frase e condivido credo che ti sei descritto bene così il bello della vita è proprio quello grazie ne ha fatto bene parlarne allora per tutti voi vi lasciamo col pensiero della sera la buonasera a tutti grazie